Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Fate capire il crepa, io i conti li pareggio. Uno di due parti, io lo ammazzo. Pure la polizia che vedi in giro, mica sta là per pestarvi, ci sta per proteggervi. E da voi che ci protegge? No, ti occhiamano! Sono cresciuto per la strada, e me che c'è? Fino a qui tutto bene. Perché non scendete dalla macchina? Non siamo mica attuarie. Fino a qui tutto bene. L'indirizzo di Asterix, per piacere. Ne hai viste il cacciatore? Non c'è nessun morto. Divederci. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta. Gente, si crede che scherziamo? Ma l'atterraccio.